In questo tutorial vedremo come partecipare a un quiz online durante una lezione in videoconferenza con Hangouts Meet, prima da cellulare e poi da pc. Partiamo dal cellulare. Per mantenere il collegamento con la video lezione e contemporaneamente accedere al quiz online dovrò cliccare il tasto in basso al centro nell'applicazione Hangouts Meet che avrò scaricato nel cellulare. Questo mi consentirà di ascoltare le istruzioni e la voce dell'insegnante durante lo svolgimento del quiz. A questo punto selezionerò l'icona di Google dal mio cellulare e digiterò nella stringa di ricerca Join Quids. Poi cliccherò su Join Quizzes e inserirò il codice che mi verrà dettato dall'insegnante nello spazio Enter Game Code. Dopo aver digitato il codice e il mio nome e cognome sarò pronto per iniziare il gioco e cliccherò su Start Game. Una volta concluso il quiz chiuderò la finestra e tornerò alla video lezione cliccando sull'icona di Hangouts Meet nella schermata iniziale del mio cellulare. L'operazione è decisamente più semplice se ci si collega alla video lezione da computer. Mentre seguo la lezione in videoconferenza aprirò un'altra finestra cliccando sull'icona di Google nella barra delle applicazioni che qui si trova in basso. In alternativa posso aprire una finestra di Google da desktop. Posizionando il cursore in alto a destra sulla linetta orizzontale abbasserò la finestra della video lezione e dal mio desktop selezionerò l'icona di Google Chrome. Nella stringa di ricerca del motore di ricerca digiterò Join Quizzes e cliccherò su Join a Game. Da qui in poi seguirò la procedura descritta nella prima parte di questo tutorial. Mentre faccio il quiz non dovrò chiudere la finestra della lezione in videoconferenza alla quale devo tornare una volta concluso il test. Una volta concluso il quiz per tornare alla video lezione sarà necessario posizionare il cursore sulla barra delle applicazioni e cliccare sulla finestra di Google in cui abbiamo tenuto aperta la video lezione.